Thierry Henry, com'è stato segnare il primo gol in Serie A e soprattutto quale emozione hai provato? Buongiorno, molto buona emozione segnare la Serie A. Con il giorno avviano, è difficile giocare una Serie A, ma penso che sto bene per la prima partita. Come ti trovi con questa squadra e con questo gruppo? Buongiorno, benissimo, tutto il gruppo, il mio colo è bene e è questo. Ecco, adesso ci sono altre partite, il campionato, lo dicevi tu, è molto difficile, però la Sandra Abate può dire la sua? Sì, il campionato è troppo difficile, penso che dobbiamo giocare partita, po' partita e così aspettiamo si classifica per giocare un playoff.